Quello che stai guardando sono ricordi. In questo caso riguardano un solo individuo, Voldemort, o come era conosciuto allora, Tom Riddle. Questa fiala contiene un ricordo molto particolare del giorno in cui l'ho conosciuto. Però direi che lo vedessi, se ne hai moglie. Sì, sì, sì. Devo ammettere di essere rimasta confusa nel ricevere la sua lettera, signor Silente. In tutti gli anni che Tom è stato qui non ha mai ricevuto visiti di parenti. Ci sono stati degli incidenti con gli altri bambini. Cose brutte. Tom, hai una visita? Chi è lei? Beh, io sono come Tetham. Sono diverso. Lo dimostri?